Non la faccio, non la faccio più. 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 Io non ti dico anche questo. Non posso parlare. Che mi viene la sorrida. Opposizione, poi ci stanno lezioni di opposizione, lezioni di maggioranza, si fa la fine. Quando forse qualcuno si è fidanzato, durante la campagna aereo, durante la parte della maggioranza, poi si spende. La gente è vera, c'è a votare, c'è un'esercizio che è stato votare, c'è un'azienda, c'è un largo consenso, capola e il viattino di questa città, e ha la maggioranza della parola. Ma vedete, con questa supposizione, è quello sì di fare proposte, è quello sì di intervenire in situazioni come quelle di Lange, situazioni così delicate. Ma il compito dell'opposizione è anche sistematizzare da dove c'è la possibilità di una maggioranza che non c'è. Mi sembra che ha fatto un po' qualche intervento precedente che diceva io, sindaco, non so se voglio scontrare di un po' di sede. Indecchia, discorso, sindaco, perché tu hai la responsabilità, inoltre di un'organizzazione di questa città, del modo migliore, e di mantenere per una maggioranza la parte. Vedi, mentre tu, in caso, dopo la stagione del razzo, che è la persona di dirigenti, hai detto, l'opposizione che sembra la stessa successora, non ha argomenti, e oggi siamo assistenti che non era pretestuoso la nostra posizione, non era pretestuoso ovviamente i nostri argomenti sulla missione di dirigenti. Abbiamo preso altro, che un partito, una cosa che è d'assunti, ha presentato un documento dove ci dà ragione. E questo lo dico anche invece l'opposizione, che non è trascommentare, non è che ce lo siamo inventati, perché invece non l'abbiamo inventata noi, c'è una legge sbossata, c'è un decreto legislativo approvato nel settembre 2011, che dice che noi di dirigenti non li puoi fare. E allora, al di là del lato di indirizzo, che poi c'è questa diattiva tra l'opposizione, il filo in domenio, io voglio resterlo chiedo, no, chiedermi il Presidente, chiedo, ma anche per tutti quanti noi, la gente che ci sta ascoltando dall'1, ormai sono quasi le 4, che vuole la sua posizione, perché io ne prendo l'abitudine, e c'è una maggioranza, una parte, il partito democratico, è il secondo partito di questa maggioranza. E non è vero, ma si è malizzato, perché oggi ho capito il decreato, caro sindaco, che c'è una maggioranza che non conviene sulle mie posizioni così importanti, perché io ne vedo, io c'è anche la riorganizzazione della maggioranza umana, un tema importantissimo, e su questo c'è una maggioranza di vista, che uno ha una visione e l'altro ha una visione, e perlopiù, c'è, abbiamo preso atto, giustamente, senza mettere il video, abbiamo fatto, perché ci siamo persone che hanno correttezza alla Commissione della lista, e abbiamo preso atto che oggi, e lo aspettiamo nei prossimi giorni, c'è una distonia fortissima, che sarà conseguenziale, tra il gruppo consigliare e l'aggiunta, e questo è tanto importante, un'aggiunta per di più politica, per di più politica, quindi, già vedremo anche su altre attore, vedremo, ovviamente, se questo modo, come diceva qualche consigliere tra i pochi giorni, è un fatto di, voi credete, diciamo, fare, reali tutti, di chi è più forte alla maggioranza, ovviamente voi volete il cacciamento in questa, in questa città, e su questo vi aspettiamo, però sindaco, io ti chiedo, stavattina, e tu non è più, come hai fatto passare che la sua, come hai fatto, che noi avevamo tanto perdito, una parte della maggioranza, o se, la tua maggioranza, ti chiede di evocare i miei giovani, su questo, tu devi rispondere, ci devi far capire cosa vuoi fare, perché, stiamo facendo un affetto, ovviamente di essere, legati, diceva il Consiglio Barca, una differenza tra legittimità e legalità, questa amministrazione è nata, tutto il campagno di trovare della legalità, e io, e la mia posizione, eravamo, quantica morrisse la città, e su questa battaglia, no, è il caro, mi non basta, io questo, non l'hai detto tu, ma io, su questa battaglia, lo sento al primo giorno, non introdescerò, un millimetro, sulla posizione, dell'alleganzare, questa città, dove tremo, chi è colluso, oggi ovviamente, per me, anzi, questo la luce. Grazie. Grazie a te, Presidente, 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 Grazie a te,